siamo qui con il terzo classificato dell'agri yogurt selezione bovino ciao ti va di raccontarci la tua esperienza e perché deciso di fare yogurt nonostante tu sia giovanissimo allora iniziato la prima idea di fare yogurt è partita intorno ai 16 anni quando ancora ero a scuola diciamo perché per me è sempre stata una passione sono sempre creduto abbiamo sempre avuto l'aumento da latte e per me è una cosa che dobbiamo partire e dobbiamo realizzarla finiti gli studi abbiamo iniziato a fare un conto lavoro in un'alteria poco lontano iniziando a trasformare il nostro latte e yogurt e dopo una quarantina di giorni la batteria purtroppo ha chiuso e qua penso ripenso con il papà la mamma e via eccetera e qua è il momento di partire e comincio a fare permessi non permessi la bavaria informati da una ditta l'altra fortunatamente dopo 12 mesi siamo riusciti a partire e dopo circa due anni siamo più che soddisfatti diciamo perché il latte dà una marea di soddisfazioni quindi le soddisfazioni ci sono e siamo contentissimi diciamo e quindi per te cosa significa partecipare a questo concorso ed essere arrivato terzo comunque ho ottenuto un punteggio molto alto e ho iniziato per scherzo perché diciamo venuto rappresentante in azienda devi partecipare devi partecipare gli ho detto no non me la sento perché non ho tempo un po niente lui continuava di partecipare un giorno l'ho chiamato detto guarda che partecipo fatto l'iscrizione abbiamo portato lo yogurt direttamente sua breccia per essere sicuri che il prodotto non avesse alterazioni causa temperatura e robe varie e ho detto proviamo in ogni caso insomma ti danno le schede di valutazione robe varie quindi è già un qualcosa che ti dà una mano a capire il tuo yogurt in che classifica si posiziona insomma e quando l'altro giorno ci hanno chiamato ho detto siete arrivati sul podio subito non sapevamo credito pure no e dopo ho detto no siete siete arrivati e vi aspettiamo a ritirare il premio e per me questo è una soddisfazione grandissima perché ho capito che il duro lavoro ha ripagato la mia passione e ho capito che lo yogurt può essere migliorato ancora però siamo già su un buon traguardo insomma quindi come vedi il futuro in ambito di allevamento per noi giovani per me è una strada che può andare perché vedo nel nostro settore nella nostra zona i giovani stanno aumentando sempre di più nelle agricole e secondo me è una strada valida e grazie mille